Di questo momento non è ufficialmente aperta la crisi di governo, qual è la posizione del PD? A noi pare un grave errore perché abbiamo da combattere il Covid, abbiamo una pandemia che tocca l'economia della nostra società, c'era da mettere in campo ristori, tenuta della coesione sociale e programmare più di 300 miliardi di fondi europei. La maggioranza doveva lavorare coesa, unita, così come abbiamo chiesto noi del PD e anche il Presidente Conte, aprire una crisi è un errore. Ci sono ancora margini per proseguire l'esperienza di questo governo anche senza Italia Viva? Noi l'abbiamo dimostrato scrivendo un recovery, seduti a un tavolo si risolvono tutti i problemi, si individuano le priorità di un Paese che sta attraversando una battaglia contro la pandemia e per la nostra economia. Io mi auguro che nelle prossime ore si possa ragionare di questo. Il Premier Conte uscendo dal Quirinale ha fatto intenere che non si possono cercare i voti uno ad uno in Parlamento, ma è possibile una maggioranza solida in questo Parlamento? Ma guardi, con una crisi aperta è difficile dire, gli sbocchi sono differenti. Noi veniamo da una storia per cui l'interesse generale del Paese viene sempre prima di tutto, prima dell'interesse di partito. Come dice il Presidente Mattarella c'è da essere costruttori e purtroppo oggi questa è una giornata che non va in questo segno. Vertice del centrodestra